Entriamo a Betania, impariamo il servizio dell'ascolto e il titolo dell'esortazione di Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto per l'avvio del secondo anno del cammino sinodale diocesano. Come credenti e cristiani siamo chiamati a metterci in gioco, tutti al di là di ogni visione più o meno legittima. A ciascuno chiedo, come vostro pastore, di aprire il cuore alla fiducia e alla disponibilità. E' l'esortazione che Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, ha rivolto alla sua chiesa per l'avvio del secondo anno del cammino sinodale diocesano. Sessant'anni fa si apriva il concilio Vaticano II, scrive Satriano. Oggi, sulla scia luminosa di quell'evento mirabile e fecondo, ci ritroviamo a inaugurare il secondo anno del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Per l'arcivescovo sono state diverse le suggestioni e i fremiti di speranza emersi nelle assemblee sinodali e registrati dalla sintesi diocesana, che, lo ricordiamo, è possibile leggere su internet. Oggi desideriamo scendere in profondità nelle realtà che appartengono al nostro quotidiano, continua il pastore, per rilanciare una modalità di essere chiesa animata dal Vangelo. Significa restaurare, ristrutturare una realtà preesistente e costruire qualcosa di nuovo. Stiamo vivendo un cambiamento d'epoca che richiede il coraggio di un cambio di rotta, ribadisce. Si tratta di ricomprenderci dinanzi ai mutamenti in atto, recuperando l'essenzialità dell'identità cristiana e cercando nuove intuizioni operative che ci pongano accanto alle sfide di oggi. Anche noi siamo chiamati a imparare il servizio dell'ascolto. Ci attende, conclude, una sfida esaltante, un altro tassello da aggiungere al mosaico che andiamo costruendo attraverso l'incontro con tante sorelle e fratelli che abitano le nostre storie o sono ai margini, realtà imprescindibili a cui guardare.